Quando pietre e silenzio si aggiungono alla forza, i luoghi diventano arte. Quando ingegno e semplicità incontrano la forza, i luoghi diventano arte. Quando incontrano la pazienza, il cibo diventa un'esperienza. Quando terra e acqua segnano il cammino. Gli elementi diventano magia. Quando mente e sguardo incontrano la grandezza. La natura diventa energia. Gli elementi diventano magia. Quando forza, pazienza, cammino. e bellezza si incontrano diventano Abruzzo Grazie per la visione